Vi accogliamo in una strepitosa veduta del Canal Grande con otto pubblicazioni dei maggiori studiosi riferite a Canaletto e collaboratore sullo sfondo relativa a un dipinto che si trova nelle collezioni reali inglesi musealizzate altre versioni come il nostro, il Canal Grande, la salute, il bacino di San Marco e la bellezza della Venezia del Settecento.